I GAL hanno contribuito e contribuiranno allo sviluppo integrato del territorio? Sì, io potrei dire sì e cavarmela qui e passare alla seconda domanda. In realtà prendendo la parola in questa circostanza preliminarmente mi corre l'obbligo di davvero ringraziare la dottoressa Spinelli, la dottoressa Di Napoli, il dottor Cacace per i puntuali contributi e stimoli che hanno dato a questa nostra discussione, anche riflessioni. In fondo questa è una giornata dalla quale noi ci aspettiamo che cosa? Non certo quella di riprodurre qui magari qualche elemento polemico che poi dà il sapore alla pasta, è inutile no? Perché se no la roba sciappa non ci piace. Ma non si tratta qui di fare una riflessione, capire che cosa abbiamo fatto fino ad oggi, che cosa stiamo facendo, come intendiamo guardare al futuro. E quindi essere qui in termini molto costruttivi, lo dico subito, a me la polemica non interessa, non la faccio, non la farò, voglio invece ragionare se sul fondo, Stavo dicendo perché credo che l'abbia detto prima con qualcuno, forse con Donatella, insomma, dottoressa Consolandi, venendo giù in macchina, in auto per questo incontro, dico ma come imposto la chiacchierata? Allora mi è venuto in mente quel bellissimo film, credo con Sofia Loren e Mastroianni, episodi, ieri, oggi, domani, dopo però l'intervento della dottoressa Spinelli, credo che dovrei aggiungere e dopo domani. Allora, alla sua domanda, io risponderei con quella che è stata ormai la incontrovertibile realtà storica dell'esperienza dei GAL nelle Marche, su cui c'è poco da infiorettare, è quello che è questa regione, nei 29 GAL che inizialmente dopo la conferenza europea sullo sviluppo rurale e dopo l'approvazione nel 1991 del primo regolamento sullo sviluppo rurale, in questa regione nacquero due esperienze di GAL, uno nella provincia di Macerata, che credo a cavallo Macerata e Ascoli, e un altro a cavallo del provincia di Macerata, prevalentemente Ancona. I due soggetti proponenti furono una comunità montana e l'associazionismo tra gli imprenditori del settore vitivinicolo. Allora, cioè la molla a creare e a evolvere la specie è venuta dalla capacità di stare insieme, con una frase abusata potremmo dire di fare squadra, di concepire il proprio futuro non come un destino individuale, ma come un destino collettivo, sulla capacità di analizzare il contesto socio-economico all'interno del quale ci si muove, di mettere a punto i progetti e mettere in campo la capacità di realizzare gli stessi progetti una volta, come dire, che questi siano stati condivisi, quindi poi tutti gli strumenti della partecipazione, della trasparenza, eccetera, eccetera, però voglio dire, decisiva è stata l'esperienza associativa innanzitutto tra le comunità montane. I Gal delle Marche hanno realizzato, non solo con il primo leader, di cui noi siamo stati poi superstiti, perché l'altra, ma con leader 2 e con leader più, una quantità di interventi, di realizzazioni, di grande importanza, io arrivo a dire, condividendo le cose che diceva il vicepresidente Lundchen, che alla fin fine, personalmente, ritengo che la cosa più importante che i Gal abbiano saputo realizzare, soprattutto con l'esperienza dei leader 2 e di più, non sono state tanto le realizzazioni materiali, quelle belle, brutte, riuscite o non riuscite, ci sono, sono lì, ma il pregio prevalente dal mio punto di vista è quella che Giuliani chiamava la governa, cioè la capacità di esprimere un governo ampio di un territorio concepito come un sistema territoriale integrato, integrato sotto il profilo dei soggetti istituzionali, quindi grande alleanza tra comuni, piccoli comuni, comunità montane, ma anche la provincia, perlomeno nella esperienza anconetana, e integrazione con gli stakeholders del territorio, cioè gli operatori socio-economici che in Vallesina inizialmente furono i produttori di verdicchio, perché quello è nell'agroalimentare, come dire, il dominus che regge una impalcatura economica di grande importanza, ma via via di coinvolgere in questo partenariato soggetti a carattere culturale, soggetti a carattere più diversi, con partenariati molto ampi, con una capacità di dialogo e di interazione anche e di definizione dei progetti abbastanza rilevanti, spesso anche con progetti innovativi ed avanguardia. Quindi capacità di fare alleanze. Ora, se io posso, se qualche volta abbiamo avuto qualche intemperante, io credo che, guardate, questo patrimonio di abilità, competenze, capacità di analisi, capacità di progetto e capacità di realizzazione e di costruzione e rafforzamento delle reti istituzionali, istituzionali, ma non solo istituzionali, anche integrate con gli operatori dell'economia, quindi sostanzialmente i privati, beh, questo è un patrimonio delle marche, che hanno visto i GAL marchigiani collocarsi nelle due edizioni dell'iniziativa comunitaria leader 2 e del più, con le più alte performance di utilizzazione delle risorse, ma non ci trattava solo di spendere tanto per spendere, ma spesso di spendere su progetti realmente innovativi ed avanguardi. Io penso oggi, da un po' di tempo, qua sento parlare dell'albergo diffuso, Fabrizio, l'albergo diffuso fu una invenzione che, peraltro, mutuammo dopo una gita o una di quelle missioni che la rete nazionale organizzava all'epoca nel Salento a Santa Maria di Leuca, con il mitico Masino, eccetera, e con delle realizzazioni che forse se abbiamo peccato in qualche cosa è di non aver ripreso e quindi è rilanciato su scala più ampia. Qui, come sempre, i bilanci ci debbono anche permettere un po' di autocritica e ci mancherebbe altro, no? Ma autocritica collettiva, cioè, siccome Nemo è profeta in patria, per cui, spesso si ritiene che le cose che facciamo a casa nostra, vabbè, l'abbiamo fatta, è nato tutto bene, abbiamo speso il 97% delle risorse, i controlli ci siamo usciti indenni perché abbiamo lavorato bene, pipopà, vabbè, andiamo a casa e buonanotte al secchio. No, ecco, spesso siamo noi che non riusciamo a valorizzare adeguatamente il nostro lavoro. Però se qualche volta c'è una punta di, come dire, di critica, ma questo è dovuto proprio al fatto di essere consapevole, di aver realizzato nelle Marche che è un'esperienza importante, alla quale aspireremmo dare una continuità nel tempo. Perché guardate che, come noto, fa più rumore un albero che cade che la famosa foresta che cresce e allora il patrimonio di credibilità e di ascolto che i Galci sono conquistati sul territorio è un attimo, siccome siamo qui tutti adulti, posso usare una parolaccia a sputtanarselo, è un attimo. Nel senso che quando i comuni, quando le associazioni, quando gli imprenditori del turismo rurale, della ricettività, dicono ma sei un anno, due anni, tre anni, ma dove siete finiti? Ci domandano. Allora noi non possiamo, saremmo disonesti nei confronti di noi stessi e del stesso livello di governo regionale se noi non trasmettessimo con onestà, con limpidezza, con lealtà, proprio con lealtà questo malessere perché è dall'interpretazione, dal superamento di questo malessere che noi riusciamo a guardare con positività al futuro. Perché? Perché non abbiamo mai avuto di noi stessi una concezione burocratica, ventisettista, che cavolo te ne frega? Aspetti la fine del mese, la paga arriva, poi dopo se la baracca è all'altezza del compito, bene, se non lo è, che te frega? Noi non siamo, tanto siamo delle minuscole realtà organizzative, i nostri GAL, hanno due dipendenti, tre dipendenti, poi gestiscono 5 milioni di euro in quattro anni, no? E vabbè. Noi non abbiamo mai introiettato nel modo di essere GAL la cultura ventisettista, che mai di quelle del fine mese. Vorremmo invece, come dire, fare, essere all'altezza di una tradizione, ma anche all'altezza dell'urgenza di una situazione che pesa anche nell'economia marchigiana. Forse era il direttore Luzzi che lo ricordava. Noi abbiamo elaborato, di un GAL Flaminia Cesano che vedo qui in Salve, noi abbiamo elaborato i piani di sviluppo locale in un contesto prima del famoso settembre nero dell'economia mondiale. Quei piani vanno riaggiustati, quelle scelte vanno ricalibrate. Io dissi una volta, no per carità, non riapriamo il libro della programmazione, vediamo se in corso d'opera abbiamo la capacità di adeguare. Però vediamo che nei nostri territori, come ricordava il Presidente Giuliani, sono i territori montani, altocollinari, con un'economia fragile, con tutte le caratteristiche che voi sapete che hanno contribuito a renderli elegibili al leader e al PSR. Noi vediamo che c'è un'economia in affanno. E allora diciamo, questi benedetti 35 milioni tra province e GAL di euro che sono lì spendibili e che possono dare boccate di ossigeno al turismo rurale, all'impresa, all'occupazione, eccetera. Viva Dio, mettiamoci insieme, dialoghiamo fino in fondo. Patrizia, l'autoressa Barocci, chiede lavorare con un minimo di collaborazione, un minimo, un massimo di collaborazione. Noi siamo dalla stessa parte, siamo sulla stessa barca e ci mancherebbe altro. Quindi questo è stato ieri, in parte l'oggi, sul domani, quello che saranno i GAL, certo dovremo far tesoro di questa esperienza per capire che cosa va ricalibrato. Operatore agricolo che è diventato gestore di un'azienda agrituristica e della ricettività rurale che continua nella sua attività nel settore primario ma diversifica e quindi, beh, naturalmente sarebbe portato a concepire la competizione con l'agriturismo vicino, con il bed and breakfast vicino, con l'operatore che gli sta a confine. Il lavoro fatto dai GAL ha fatto maturare un'altra concezione. Cioè, io penso all'esperienza del Montefeltro, penso anche alla nostra esperienza, spero che la Regione mandi avanti questo benedetto proposta di legge regionale, tra l'altro saluto e condivido i contenuti che abbiamo letto sui giornali della recente proposta della giunta regionale in materia di ampliamento delle potenzialità dell'azienda agricola in vari settori, non solo quello importantissimo, meramente produttivo, che non può che restare per avere prodotti agricoli di qualità, salubri, eccetera, eccetera. Ecco, però, dico, la stessa esperienza del distretto rurale, qui mi riallaccia questa, che sembra che riprendere quota, beh, rientra nell'idea del fatto che ormai il sistema Marche compete con altri sistemi regionali e rafforza la competitività del sistema Italia. Ma all'interno del sistema Marche non possono esistere plaghe di anonimato. Noi dobbiamo sostanziare, rafforzare l'identità e l'identificabilità del sistema Marche, soprattutto da quella dal punto di vista turistico, che è il leggo ormai sempre più di frequente che secondo il governo regionale dovrebbe essere, come dire, la seconda gamba dell'economia di questa regione, dopo il sistema manifatturiero, grazie. Dico, all'interno di questa destinazione Marche, noi dobbiamo rafforzare molto l'identità e l'identificabilità delle aree territoriali ampie in grado di rafforzare la stessa immagine Marche, perché se no l'immagine Marche di per sé è un'immagine vuota, ma l'immagine Marche diventa forte se diventa forte l'immagine del Monte Feltro, se diventa forte l'immagine del Flaminia Cesano, se diventa forte l'immagine dei Colliesini, se è ancora più forte l'immagine del Sibillo o del Piceno, senza nulla togliere al mare, che si difende già con le forze sue. Allora, io credo che il merito dei GAL sia esattamente questo, chiudo solo con una cosa perché non so se giustamente saprò ancora la parola, però per dire, ma chi sono i GAL? Perché noi ce lo dobbiamo fare, sta domanda. I GAL non sono comuni. Un mio amico di Re Canati l'altro giorno, Carlo Latini, domandava, dice, ma cos'è un ente, non è un ente, questo oggetto misterioso che sono i GAL? Ma se gli uomini sono, e le donne, ciò che mangiano, i GAL sono ciò che i soci consentono e permettono e vogliono che esso sia. Il GAL in se stesso è una pura espressione geografica, parafrasando, no? Il GAL è ciò che il partenariato, avendo la capacità di essere tale, quindi di stare in rete tra i partner, permette che il GAL sia, se no di per sé il GAL non è nulla. Allora il GAL sono i comuni, il GAL sono le comunità montane, sono le province, sono le associazioni agricole, sono le associazioni artigiane, sono gli imprenditori soci, sono il circolo per la valorizzazione del castello di, sono il circolo culturale di, che sono soci e che prendono parte attivamente nelle fasi di consultazione, di elaborazione, di confronto e via discorrendo. Se c'è questa rete forte sul territorio, beh, il sistema è sano, il sistema si rafforza, possiamo, come diceva un gruppo musicale negli anni 70, credo, possiamo ancora seminare il grano e fare figli se vogliamo, possiamo ancora pensare ad avere un futuro. E qui il discorso si allargherebbe a ciò che ci ha detto la dottoressa Spinelli. che ci sarà ancora uno sviluppo rurale dopo il 2013, ci saranno le politiche di sviluppo rurale, bisognerà interrogarsi quali saranno le caratteristiche dello sviluppo rurale nelle marche, ossia le marche avranno ancora bisogno di politiche serie, radicate di sviluppo rurale e come fare per poterle realizzare, di che tipo di GAL, tra gli altri soggetti, non gli unici, avremo bisogno. Avremo bisogno di GAL burocratizzati, uffici decentrati delle regioni, questa è la... fai il bando, apri bocca solo sotto dettatura, oppure avremo bisogno di GAL che abbiano una grande capacità di fantasia e di interpretazione della realtà in cui operano. Io credo in questa seconda cosa, per cui ho scoperto oggi, lo ammetto, che la situazione è molto migliore di quella che pensavamo, non solo sotto il profilo della disponibilità della misura... Guardate, però, però, non culliamoci, io vorrei finire così, sugli allori, sappiamo che abbiamo di fronte un periodo che ci richiederà una grande capacità di lavoro, cioè le stesse cose che noi avremmo dovuto fare in quattro anni, dovremmo farle in due anni e mezzo, a chi va bene, qualcuno anche in meno. Allora, per fare questo abbiamo bisogno di zero polemiche, di grande trasparenza, di grande realtà, di grande capacità di stare insieme, per rendere un servizio, per rendere un servizio, perché al di là di questo, io veramente non capisco se no i GAL che cosa debbano servire, scusami, grazie. Grazie a lei.